La polizia locale l'ha fermata alla guida e siccome non riusciva a mostrare uno straccio di documento lo ha denunciato e ha messo la macchina in fermo amministrativo con l'obbligo di custodirla in un'area privata per almeno tre mesi senza adoperarla. Tutto sarebbe finito lì, invece lui, un nigeriano sulla quarantina, non contento, qualche giorno dopo si è presentato in comando a Voghera chiedendo di annullare tutto perché lui la patente ce l'aveva e come. Peccato che dopo attenti analisi è emerso che quel permesso internazionale di guida non fosse affatto conforme a quelli rilasciati dallo Stato africano. Ulteriori approfondimenti hanno permesso infatti di accertare che era una patente palesemente falsa. Il documento, uno dei molti falsi scoperti negli ultimi mesi dalla polizia locale di Voghera, è stato sottoposto a sequestro ed inviato presso il nucleo falsi documentali della polizia locale di Milano, dove una volta periziato sarà messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il nigeriano è stato invece sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Da qui sono emerse le sue esatte generalità e il fatto che lo stesso fosse aggravato da molti precedenti di polizia. È stato quindi denunciato a piede libero per falsità materiale commessa da privato in autorizzazione amministrative.